La strangolata mani nude quel primo maggio 2014, togliendole così la vita in pochi minuti per asfissia, l'ha uccisa perché impaurito, temeva potesse rivelare cose scabrose ai suoi superiori o ai carabinieri. E' questo lo scenario che emerge dalle motivazioni dei giudici fiorentini della Corte d'Assise d'Appello, che hanno condannato padre Grattienna Labia a 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa da Caraffello il primo maggio 2014. La Corte d'Assise d'Appello, a differenza del primo grado, si è spinta oltre, quindi ha descritto l'evento omicidiario di Grattienna, quindi che l'avrebbe strozzata, soffocata, occultata in un primo momento e poi dopo occultata definitivamente in un secondo momento. Il cadavere di Guerrina non è mai stato ritrovato, la donna è stata infatti come inghiottita nel nulla. Per i giudici fiorentini, che per la prima volta hanno descritto le modalità del delitto, la casalinga si sarebbe incontrata nel primissimo pomeriggio di quel primo maggio in canonica con padre Graziano, a seguito di un litigio religioso, si sarebbe scagliato violentemente sulla donna per poi soffocarla. Quella relazione per lui non era più sostenibile. Credo che questo aspetto sia ormai stato sviscerato, che ci fosse una relazione, un'infatuazione nei confronti di Alabi e che questa circostanza e i problemi e i probabili rapporti sessuali hanno determinato e ingenerato, anzi come la parola che viene utilizzata dalla Corte d'Assise d'Appello, una paura su Alabi che ha deciso poi di uccidere Guerrina. A pesare sul frate congolese ancora una volta la figura di Zio Francesco, fantomatica invenzione dello stesso religioso secondo i giudici, l'immensa mole di contatti telefonici tra lui e la casalinga ed infine la questione delle celle telefoniche. Utilizzo la frase che è stata utilizzata appunto dalla Corte d'Assise d'Appello, che le bugie hanno le gambe corte. Tutte le bugie che Alabi ha riferito, sia in sede di sommare informazioni, che nell'interrogatorio se non sbaglio nel mese di agosto, che nell'esame durante il primo grado, sono delle semplici bugie e alla fine, come spesso accade, queste cose vengono utilizzate contro di lui. Il prossimo ed ultimo capitolo giudiziario adesso sarà scritto dalla Cassazione, alla quale ricorreranno i legali del frate congolese che si è sempre professato innocente.